per capire perché mario che al funerale della madre ha visto la figura della madre seduta sulla sua bara si è messo a leggere libri su libri per capire che cosa gli è successo commento perché non intuisce che la figura della madre l'ha vista nel piano astrale e non nel piano fisico e grazie